Mi chiamo Favo Maria. Il prossimo novembre compirò 90 anni. Io avevo 44-45 anni. Ero una casalinga, però abituata nel nostro quartiere, che era un quartiere molto democratico, molto vicino alla gente, dove veramente c'era un'armonia meravigliosa. E in quel quartiere io ho fatto tante cose. Ho dato attività nel mio partito, se posso dirlo, nel partito comunista, perché venivo da una famiglia di antifascisti. E poi ho cominciato a lavorare nei quartieri, che è stata una bellissima esperienza, perché finalmente ci siamo capiti con quelli che pensavamo fossero avversari. Perlomeno una parte erano quei democristiani molto democratici, molto aperti. E con quella sono cresciuta molto, perché ho imparato a conoscere le regole dei comuni, a conoscere un piano regolatore. E abbiamo fatto molte iniziative, tra la quale un ambulatorio, che in effetti era la cosa che più che altro urgeva, perché il nostro quartiere era anche un quartiere di anziani. Molti giovani erano morti in guerra, quindi sì, avevamo già superato queste cose, però le avevamo ancora e picchiavano ancora sulla pelle della gente. E con questo ho continuato fino a 80 anni. Pensate che la società generale aveva fatto una bandiera nella quale, tra molte altre scritte, c'era scritto società mutuo soccorso tra gli ambi sesso. Quindi ho uomini e donne. Pensate, sono state società molto gloriose. Quella lì e quella dei macchinisti sono società. E durante la faccenda delle bombe, della vigilanza, si sono impegnati molto. E soprattutto chi si è impegnato molto sono stati gli operai della Magrini. Allora, nel nostro quartiere, durante il fascismo, molte persone sono stati espatriati, hanno dovuto scappare, hanno subito molte violenze. successivamente c'è stata la guerra e molti ragazzi nostri non sono più ritornati. e quindi succede questo scoppio delle bombe. La gente era fuoribonda. Ci fermava. Noi che davamo un po' più di attività nel quartiere, ma cosa facciamo? E ci siamo riuniti. Esisteva già un comitato per la lotta antifascista. E ci siamo riuniti. Abbiamo chiamato tutta la gente che ci assaliva perché non facevamo niente. E insieme agli operai, insieme alla gente normale, insieme agli abitanti del quartiere, abbiamo deciso di fare la vigilanza. Siamo riuniti proprio nella società dei macchinisti. E loro ci hanno lasciato a disposizione una sala per tutto il tempo che abbiamo effettuato questa vigilanza. Prima di tutto gli operai della Magrini, perché poi vi dirò cosa hanno fatto. Ma poi la gente. La gente che la cosa principale era quella che volevano che i loro ragazzi andassero a scuola. E nel nostro quartiere c'era non solo l'elementare, ma c'era liceo. C'erano diverse scuole importanti. Per cui abbiamo tutti i genitori, abbiamo avuto delle persone che mai più avremmo pensato. Persone anche abbastanza facoltose. E hanno preso parte con noi a questa vigilanza. Cioè gli operai della Magrini hanno controllato tutti i tombini. Poi li hanno dipinti di giallo. Hanno controllato tutti i portoni. Perché sapete che le bombe sono state messe anche nei portoni. E poi loro hanno vigilato la fabbrica per tutto il periodo delle bombe. Le altre persone soprattutto si sono dedicate alla vigilanza delle scuole. E si partiva da una coppia di due persone che venivano in questa società dove avevamo dei quaderni, scrivevamo i loro nomi e dicevano io faccio un turno di due ore, lo faccio di un'ora, mi prenoto per dopodomani. E questa storia l'abbiamo coperta. Forse dopo l'ultima bomba che è scoppiata, che è quella dietro all'ospedale, che hanno ucciso una donna. Ed è stata una cosa... eravamo tutti uniti e poi è stato un grande shock per un quartiere così antifascista, vederli tornare. Questa è stata una cosa terribile. Però c'è stato tanto impegno. Una cosa che non scorderò mai. Eravamo un gruppo, compreso quelle due signore, anche quella che non si vede tanto, che si nasconde. E noi eravamo quelle che seguivamo tutti gli appuntamenti, cose che magari andavano un po' corrette. Si è formato un'amicizia tra persone che mai avremmo pensato che si sarebbero prestate per queste cose. Diceva io vorrei fare la vigilanza, cosa devo fare? E noi dicevamo iscriviti. Hai qualcuno che ti può venire insieme? No. Allora magari avevamo un'altra persona che era disponibile, segnavamo i loro nomi e segnavamo per quanto si prenotavano per la vigilanza. Poteva essere un'ora, poteva essere due. Ecco, in questo modo. E così è andata. Era una cosa molto semplice. Ma è venuto fuori qualcosa che è stato molto meraviglioso, molto importante. Tante, tante. Di tutte le qualità, guardi. qualche faccino roso, qualcuno che era rimasto un po' indietro e forse pensava di portare qualche arma. Questo se volete. Noi ce ne siamo accorti e l'abbiamo subito fatto presente al comitato che era insieme a noi e sono stati ripresi. Sì, su quello abbiamo dovuto aprire gli occhi, molto. Poi abbiamo preso parte alla vita, a quello che Savona decideva. Abbiamo preso parte a quella grande manifestazione di 30.000 persone. Abbiamo preso a tante riunioni anche al Chiabrera. E venivano discorse perché ci chiedevamo ma perché? Perché proprio Savona? Una cittadina che allora avrà avuto 60.000 abitanti e forse nemmeno. Capite? Solo quello che insisto una cittadina molto democratica e aveva sofferto sotto il fascismo. Per cui capite che... Allora, io in un primo tempo abituavo nel quartiere delle Fornaci perché mio papà era un traviere e quindi aveva il lavoro vicino a casa. Io ho vissuto un fascismo anche... L'ho conosciuto in un momento molto brutto. Io avevo uno zio che era un antifascista ma non dava attività. Era un'autodidatta, suonava la chitarra, leggeva tutti quei libri che una volta durante il fascismo non si potevano leggere ed era una brava persona, si sacrificava per mantenere la mamma e la sorella perché la mamma era handicapata e lui con il suo lavoro mandava avanti la famiglia. Ecco, vi dico questo perché il fascismo l'ho conosciuto in questo modo. Ogni tanto venivano a prendere mio zio, lo buttavano giù per le scale, lo picchiavano, lo portavano in federazione e lì ci rimaneva qualche giorno. Poi, perché facevano questo? Perché se arrivava qualche capoccia grossa del fascismo dovevano dimostrare che le galerie di Savona erano piene di persone ma poi successivamente li lasciavano a casa. Vi racconto questo perché io sono rimasta impressionata in un modo che non riuscivano più non riuscivano più a calmarmi e da lì è nato con la curiosità perché in casa si parlavano ma di nascosto e quindi è nata questa curiosità. Io ho cominciato ho cominciato a a cercare di capire cosa succedeva e piano piano ho avuto la certezza che dovevo fare qualcosa anche da bambino. Tant'è se posso ve lo racconto anche questo io abitavo successivamente sono venuta ad abitare in Villa Piana durante la guerra e abitavano via Maria Solari e vi devo dire che era una strada famosa perché era piena di partigiani. Noi eravamo ragazzini io ero bambinetti ero ragazzina e insieme a noi c'erano molti ragazzi anche più grandi che avevano sui 16 anni. Questi ragazzi si sentivano in difficoltà perché vedevano questi partigiani che strisciavano passavano abbastanza nascosti e dicevano ma loro fanno tutte queste cose noi non possiamo fare niente e ci siamo messi tutti insieme perché accettavano anche i piccolini come noi pensa ripensa alla fine hanno detto dobbiamo fare un manifesto qualcosa un volantino e hanno cercato un ciclostile che forse è venuto dai partigiani e hanno fatto sto volantino fino lì noi ragazzini abbiamo partecipato ma solo ascoltando improvvisamente poi loro pensano e dicono ma non potete mica non possiamo mica andare a a dare in giro adesso come facciamo qui là allora siamo intervenuti noi ragazzini andiamo noi andiamo noi andiamo noi siamo andati in piazza Brennero piazza Brennero era quasi in buio mia mamma era convinta che ero da una mia amica la mamma di quella mia amica era convinta che fosse in casa nostra insomma allora con queste entriamo in un portone di piazza Brennero e buttiamo il volantino una parte poi usciamo e come usciamo sulla piazza ti arriva sentiamo le sirene dei fascisti che arrivano di corsa allora abbiamo attraversato la strada siamo andati giù in una cantina e da questa cantina si arrivava la porta opposta per cui nessuno ci ha visto e siamo andati a letto sono andata a letto domani mattina mia mamma mi sveglia e mi dice Nucci ve lo dico Savonese mia che hanno arrestato un segatino l'hai conosciuto il segatino no hanno arrestato un segatino hanno arrestato chi tutti quei ragazzi dei 16 anni qualcuno ha fatto la spia li hanno arrestati tutti li hanno portati anche loro in federazione e poi i genitori sono intervenuti erano dei minori e quindi li hanno poi rilasciati ecco questa è stata anche tutte queste cose succede ma era una delle tante cose che succedeva a quei tempi ma nel frattempo sono entrata anche nel partito comunista e che mi teneva più perché io dopo tutte queste vicende questi questi patimenti questi lutti e mi hanno convinto anche solo aver visto mio zio portare via dei fascisti e picchiato in quel modo mi hanno convinto che dovevo fare qualcosa piano piano ci sono arrivata poi ho letto un po' di libri perché questo mio zio essendo un autodidatta aveva libri che io leggevo erano tutti nascosti sotto sotto il letto e quindi sì perché ho pensato che dovevamo cambiare il modo di vivere ci doveva essere della libertà ecco semplicemente nessuno mi ha obbligato la prima volta che ho votato non poter votare che problema non so avrei avuto 18 anni non ricordo se ho votato per la legge truffa non ricordo se ho votato 72 ecco questo me lo ricordo perché per me è stata una delle cose più belle della mia attività politica e allora te la ricordi l'arroncallo era una partigiana che arrivava da Genova e poi è stata eletta aveva letta ah sì era letta in comune un assessore era un assessore lei era una donna che aveva lottato e capiva che doveva fare qualcosa che per unire le persone perché un po' di distacco tra i democristiani e i comunisti non ce lo possiamo discondere anche se dobbiamo dire che nel nostro quartiere erano piuttosto i democristiani erano piuttosto dei cattolici più che proprio dei democristiani e qualche volta su certe cose devo dire che erano migliori di noi erano più democratici comunque insieme abbiamo fatto un bel percorso e lì prima di tutto si era il quartiere è stato diviso in due parti perché una parte era un quartiere nuovo e la parte invece di via Milano dove abbiamo dato tanto l'attività antifascista era un quartiere antico vecchio ci sono delle case che sono del 1700 perciò e insieme abbiamo fatto tante cose intanto si poneva il problema dell'uscita dell'autostrada che veniva a finire proprio nel centro del quartiere ed erano sbagli enormi e poi su quella pian piano abbiamo affrontato tutti i problemi del quartiere il fatto che avevamo tutta l'ex ferrovia e lì c'è voluto tanto per avere il territorio perché non era facile lì dobbiamo dire tanto posso dirlo il sindaco Ruggeri dobbiamo dire che è stato cioè si è impegnato molto e allora abbiamo abbiamo fatto un ambulatorio l'ambulatorio era in via Milano e consisteva in due camere una serviva per l'ingresso e l'altra parte serviva per le punture per i prelievi il comune mandava mandava un assistente sociale e un'infermiera e questa è stata una cosa ristretta magari con mille difetti ma una cosa che alla gente è servita tanto e soprattutto voglio far risaltare l'amicizia il rispetto che c'è stato tra i ma poi c'erano anche i cani sciolti quelle persone che avevano piacere di dare un'attività e non volevano impegnarsi in nessun partito e questa è stata una cosa bellissima che purtroppo con i decreti delegati ha annullato tutto di fatto io poi sono sono uscita grazie a tutti